amici buongiorno ho il piacere di presentarvi settembre in danza il corso di aggiornamento per insegnanti e amanti della danza in genere che terrò a settembre ogni mercoledì dalle 10 alle 13 e tratteremo vari argomenti cominceremo il primo mercoledì con la propedeutica a seguire la sbarra le punte e finiremo il mese con lo studio dell'allegro il corso è in modalità online su zoom per permettere a più persone di seguire e di essere aggiornati e pronti per la nuova stagione vi aspetto quindi le informazioni su www.danzaclassica.net o al numero in sovraimpressione per cui a prestissimo ciao ciao grazie